Comunque il suo passaggio alla prima brillata va a lungo, va a lungo e va fuori, e va fuori, e va fuori Enrico Fossetti, però con il secondo tornato poi riesce a rientrare in linea, ci riesce un po' disturbante e poi va a lungo anche lui, nel secondo tornato si gira, ed ecco che va a lungo e come dicevamo, questo potrebbe essere, questa è una torre Fabio che ha la prima tornata, contro misure anche per conoscere la macchina, ecco che in questo momento si gira la macchina di Giovanni Muscarmera, che però è molto abile a riprendere la macchina come giusto che sia, anzi, magari, ecco qui, come dicevamo, siamo sempre sui tornati del 97, che con Santino Tama studia ma...